cari amici trader buongiorno oggi è venerdì 12 di giugno andiamo a fare l'analisi come di consuetudine sulle nostre candele daily partiamo prima dalla nostro calendario dove vedete che alle 8 c'è le pil della sterlina che è negativo e quello sia mensile che annuale poi vediamo che alle 8 la produzione manufattiera mensile il pil mensile che sono tutti negativi poi il saldo della baranda bidea commerciale poi vedete che nel scusate ecco che nel pomeriggio avremo come potete vedere non c'è niente di particolare giornata abbastanza tranquilla andiamo a vedere i nostri grafici che la coda più importante e partiamo da euro dollaro euro dollaro ieri vedete che ha fatto una candela negativa vedete come questo 1 14 300 scusate che sto prendendo la matita come questo 1 14 300 rimasto è ritornato giugno ieri questo grande candellone però trend di fondo rimane ancora siamo in un g2 al rialzo questo potrebbe essere il sello non c'è niente non c'è niente non c'è niente restiamo all'interno vedremo che cosa succederà poi la sterlina la sterlina ieri come potete vedere la sterlina ieri ha fatto una un candelone anche qui una candela negativa trend rimane comunque per il momento ancora siamo in un g2 al rialzo questo potrebbe essere il se lo andiamo a contare il mezzo ciclo vediamo siamo alla diciassette di noi non facciamo niente per momento aspettiamo sulla sterlina il dollaro yen dollaro yen che ieri ha fatto un ha rotto la resistenza a 107 se vi ricordate ho detto che potrebbe andare a 106 vedete che siamo in una fase di discesa vedete siamo una g3 siamo in chiusura 26esima candela ormai si chiude se rompe questo minimo potrebbe continuare a 106 adesso per rischio rendimento non vale la pena entrare poi il dollaro canadese dollaro canadese anche lui come potete vedere eccolo qua ieri perdonati necola ha fatto questo candelone vedete g4 andato a prendere gli 1 e 36 274 anzi ha fatto 136 136 343 vedete che ha ripreso qui c'era infatti se vi ricordate c'era questa pin bar per momento qui in g4 adesso potrebbe continuare rialzo attenzione però e andare a prendere diciamo se rompe questo 136 potrebbe anche andare a prendere i 1 e 37 però essendo un g4 non faccio niente aspetto di vedere che cosa succede poi audi usd audi usd ieri vedete che ha fatto anche qui grande candelone ieri i mercati si sono diciamo mossi moltissimo grande candelone anche qui continua a metterle lì di già di più sono punti importanti adesso potrebbe continuare andare a 0 67 557 non entriamo a mercato per il momento aspettiamo di vedere cosa succede siamo in un g2 con comunque trend rimane al rialzo poi dollaro messicano ieri siamo entrati all'interno del dollaro messicano come potete vedere anche qui candelone vedete che avevo lo stop sotto la candela del euro messo adesso il prossimo target se dovesse rompere 22 99 potrebbe continuare andare a prendere questa media 50 staremo a vedere per momento rimaniamo all'interno poi il e teri andiamo dire che teri non con me la situazione su eterio e teri anche lui ieri 232 fatto anche lui il candelone ormai è in chiusura g3 attenzione qui perché se rompe questo target 225 prossimo tag potrebbe essere 203 per momento non facciamo niente aspettiamo di vedere che cosa succede rimaniamo in attesa il bitcoin bitcoin che anche lui ieri sceso dato sui 9.000 anche qui chiude il mercato prossimo tag 8.675 no e 99 questa potrebbe essere qui se dovesse rompere potrebbe continuare la sua discesa per momento anche qua siamo in attesa usdollaro usdollaro che al momento vedete anche qui ieri ha fatto il suo cannellone a rialzo questo potrebbe essere la partenza del g4 vedete che qui il grado del g1 staremo a vedere se questa è la partenza del g1 lo mettiamo in rosso per solos vedere se lo dovesse romper controlliamo le candele perché è la cosa più importante vedete che qui ci sono 41 candele potrebbe essere la partenza poi andiamo a vedere il gol gol che ieri è andato a fare un una vedete e si trova all'interno ha fatto fatto questo massimo a scusate che guardo qui a 1745 adesso siamo così c'è questa resistenza dinamica che anche supporto in questo momento fa da come si chiama vada da spartiacque staremo a vedere mentre qui c'è l'incrocio attenzione per me a questo potrebbe essere il g1 per momento aspetto prima di fare qualsiasi cosa avrei visto io solo all'interno e se dovesse però comunque rompere il massimo qui dovrebbe salire questo potrebbe essere il g1 perché siamo alla 12345 se rompe questo massimo parte al rialzo poi il petrolio petrolio che dopo lungo tempo eccola che lui ha fatto il candelone avevo detto che ormai questo poteva essere un massimo eravamo tirati adesso qui lo aspettiamo a 25 08 per vento lo lascio scendere inutile entrare a mercato ora poi il dow jones guardate cosa hanno fatto i mercati guardate grande candelone è andato a proprio a prendere questa già linea gialla 25.233 questo supporto vedete grande candelone ormai era in chiusura avevo detto che questo adesso potrebbe essere un massimo molto importante ormai adesso potrebbe continuare a scendere e ve lo faccio anche vedere il motivo per la sua discesa perché se guardate qua ve lo faccio vedere qua ha fatto una questo potrebbe essere il g2 ma difficile vedete che qui ha fatto un ciclo più lungo della normale 58 qui non ho nessun punto di riferimento vedete posso immaginarmi che ha fatto questo g2 l'ha fatto qui potrebbe però non è non è neanche perché non ci sono le condizioni e venite che questo è un ciclo ribassista sia l'uno e due mi aspetta solo un ritratto un ritracciamento vediamo se ritraccia ma poi dovrà continuare il di ormai gli indici sono tutti al ribasso non ci sono altre cose da dire il dax dax che ieri ha fatto anche lui il suo cannellone ormai andiamo a vedere il dax se lo andiamo a vedere il dax su vediamo se ha preso del camarilla che per darci vedete che eccolo qua il camarilla sarà qua vediamo qua se andiamo a vedere il nostro usdollaro prima usdollaro vedete che ha preso il quasi il camarilla 24 827 che potrebbe essere il prossimo target che della dow jones e del dax vedete che guardiamo il camarilla vedete che è il prossimo target ha rotto sia quello mensile che quello settimana nel prossimo target potrebbe essere 11.204 poi andiamo a vedere il nikkei nikkei che anche qui ieri ha chiuso al ribasso vedete grande cannellone anche qui e andiamo a vedere anche sul camarilla vediamo il prossimo target target del nikkei potrebbe adesso essere questo 20.792 da monitorare per momento comunque rimane short poi andiamo a vedere adesso la soia la soia che rimane dove io sono dentro vedere che la soia un'altra volta la media 144 sta facendo da sparti acqua da resistenza probabilmente siamo sempre all'interno in un g1 poi vedete non facciamo niente c'è già lo stop a pari poi il gas gas che ieri ha fatto una candela siamo in un g2 vedete che questo potrebbe essere il g3 vedete che siamo alla diciannovesima no se ancora il trend rimane laterale anche qui aspettiamo non facciamo niente e terminiamo con il copper copper che ieri ha fatto anche lui crollato e ritornato a 2 e 57 chiusura del g3 infatti avevo detto inutile entrare a mercato io vi auguro vi auguro a tutti una buonanotte e un buon weekend a voi e le vostre famiglie e ci sentiamo domani per l'analisi weekly